musica insomma ha fisso tua madre, pecora ha fisso, proprio davanti a pecorina che succhia gli uccelli cos'è sta roba? è veramente un negrone sudicio cazzo aria e attività, scopo, si mi scopo tua mamma, non scopo finocchio di merda che poi dice il mare? poi allora, notizie, mi spieghi cos'è notizie, depunisce e lascia il clan bene, bello, ma che sono Mario Montesuès qua mi spieghi, mi spieghi, mi spieghi qua davanti, poi vedi che tassa che gli faccio pagare no, ma hanno cambiato la posizione ma dai, ma sembra uno che ha le tette hanno cambiato la posizione ma che schifo, ma che glielo stanno buttando nel culo e la femmina? che stringi le ciappe? ma devi scorreggiare